Potentissimo medico, potentissimo medico. Ha operato due volte Papa Francesco, ora è indagato, è accusato di falso, ho capito, perché firmava il registro di presenza in sala operatoria e invece stava altrove, stava al mare. Ma che bisogno avevi? Ma che bisogno avevi, dottore Sergio Alfieri, di fare tale falsità? Non guadagnavi forse abbastanza? Eccolo qua, chiuse le indagini su Sergio Alfieri, il medico del Polichitico Gemelli di Roma, pensate un po' voi, il Polichitico Gemelli di Roma, che per due volte ha operato Papa Francesco. Il chirurgo è accusato di falso. Ah, perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Io, Serafino Massoni, ora seguirò il processo per sapere come andrà a finire. Ok, cari amici, questa è la situazione e queste sono le opere migliori di Serafino Massoni.